Uno dei principali fattori che ha decretato il successo del Wild World Web è senz'altro la possibilità di interazione tra utente e web. L'utente interagisce con il web per esempio quando si iscrive a un forum oppure quando acquista della merce attraverso il commercio elettronico oppure ancora quando effettua transazioni bancarie e così via. Questo tipo di strutture necessitano la possibilità di poter raccogliere i dati dell'utente attraverso dei sistemi che vengono chiamati form o moduli. Solitamente l'invio dei dati è organizzato in due parti. Una pagina principale che contiene i campi del forum, che consentono all'utente di effettuare delle scelte di scrivere testo o inserire anche delle immagini. E una pagina secondaria che viene richiamata dalla principale e che effettua il lavoro di raccogliere i dati. Solitamente la pagina che raccoglie i dati è una pagina di programmazione che si trova sul server e che si interfaccia con una base di dati. In questa fase del corso ci occuperemo sostanzialmente del modulo per poter inserire gli elementi che occorrono al raccoglimento e all'invio dei dati. Vediamo quali sono i tag che entrano in gioco per questo tipo di struttura. Abbiamo in questo esempio il tag form che serve a generare il nostro modulo o anche form. Il nome del form, abbiamo assegnato in questo caso dati utenti e l'azione che svolge il form, cioè l'invio alla seconda pagina che è la pagina che raccoglie i dati. Quindi pagina risposta .php in questo caso. Si tratta di una pagina di programmazione che si troverà sul server. Dopo l'apertura del tag form c'è bisogno di scrivere il codice e poi infine chiudere il nostro form. A questo punto dobbiamo vedere quali sono gli elementi che ci consentono di realizzare il nostro form. Quando si crea un form è possibile scegliere due metodi per poter inviare i dati che esso contiene. Il metodo get e il metodo post. Con il metodo get la pagina di risposta viene contattata e i dati vengono inviati in un unico step. Con il metodo post invece, l'invio dei dati avviene in due fasi distinte. Prima viene contattata la pagina sul server che deve elaborare i dati e poi vengono inviati i dati stessi. Per poter aggiungere un metodo nel codice, basta inserire nel tag di apertura del form il codice method uguale get o post che dipende da come vogliamo trattare i nostri dati. Vediamo alcuni tag che intervengono per realizzare all'interno del tag form delle aree con i nostri dati. Abbiamo il tag field set per poter creare le nostre macro aree all'interno dei form. E abbiamo il tag legend con il quale possiamo indicare il nome di ciascuna macro area. Facciamo qualche esempio. Esempio andiamo a scrivere all'interno del form il tag field set la nostra macro area, quindi slash field set al cui interno andiamo a scrivere il legend per specificare il nome delle nostre macro aree. Quindi supponiamo di trattare i dati anagrafici. e poi slash legend la mon br ecco aggiungiamone un'altra quindi facciamo un copia e incolla per poter velocizzare le operazioni e andiamo a cambiare dati anagrafici mettiamo esempio indirizzo ok a questo punto andiamo a verificare nel browser salvando con nome form il nostro esempio fare doppio clic e vediamo che abbiamo realizzato il nostro modulo solamente con i titoli fatto questo chiudiamo e vediamo che è possibile utilizzare anche label invece che legend quindi etichetta e infine slash label quindi andiamo a salvare e vediamo se tutto funziona correttamente ecco come si presenta allo stesso modo all'interno della nostra pagina web grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti